I genitori del piccolo annegato nella piscina gonfiabile nel giardino di casa a Bram, provincia di Cuneo, hanno consentito la donazione degli organi che salverà la vita di altri tre bimbi. Un gesto d'amore che arriva proprio in un momento di profondo dolore per la coppia. Il bambino era finito dentro una piscina gonfiabile nel giardino di casa, una villetta sulla collina di Bra in Piemonte. Lo aveva trovato la mamma già in stato di inconscienza in un più di 50 centimetri d'acqua. Per tre giorni il piccolo è rimasto ricoverato nel reparto di terapia intensiva del regina Margherita nella speranza di un miracolo che purtroppo non si è compiuto. Grazie alla donazione degli organi sono state salvate tre vite. I medici dell'ospedale pediatrico, regina Margherita di Torino, hanno espiantato gli organi che sono poi stati consegnati alle equip mediche di altri ospedali italiani per i trapianti.